Grazie Angelo, noi cambiamo decisamente argomento perché l'esperto di sicurezza informatica è una delle professioni del futuro per la quale c'è sempre più richiesta da parte delle aziende, tanto che ora è in arrivo una gara tra università per scovare i nuovi giovanissimi talenti. Ce ne parla Giorgio Bonomi. Caccia agli esperti di sicurezza informatica del futuro. Anche le Università di Padova e Venezia partecipano quest'anno all'European Cyber Security Challenge, competizione internazionale organizzata per la prima volta in Italia, finalizzata a scovare i nuovi giovanissimi talenti tra i 16 e i 22 anni che ci proteggeranno dai malintenzionati quando utilizziamo computer o smartphone. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio sul sito cyberchallenge.it ma per partecipare non occorre essere dei geni dell'informatica. L'idea è di individuare ragazzi che abbiano voglia di essere formati in quest'area e chiaramente un po' di skill in area informatica, quindi un po' di capacità di programmazione, conoscenza dell'inglese e molta voglia veramente di imparare. Quali qualità deve avere chi vuole lavorare in questo campo? Sicuramente deve essere molto curioso, deve essere anche volenteroso e soprattutto avere la capacità di informarsi e andare a recuperare le informazioni individualmente. Un campo, quello della sicurezza informatica, che sta vivendo un vero e proprio boom e nel quale conviene investire per il proprio futuro. Man mano che l'informatica appunto viene sempre più impiegata in tutte le attività della nostra vita, chiaramente la vulnerabilità e quindi la necessità di rendere sicuri questi sistemi aumenta. Ricevo anche quotidianamente richieste da parte delle aziende, ma appunto ripeto anche dall'ambito governativo accademico, di persone in gamba in quest'area. Ci sono moltissime richieste e diciamo quello che anche attualmente riusciamo a sfornare in ambito universitario non riesce a coprire le richieste che ci sono.